E' un film che parla dei diritti civili, che parla di direzione, di pari comunità, insomma è un film abbastanza attuale e devo dire che è girato tra Napoli e Lampedusa, che sono comunque due donne belle che hanno sempre visto alla loro livello umanale. Come ha cambiato la sua vita? La sua carriera da 1996 quando ha vinto musicità e ha trovato? Beh, tante cose, tante cose perché mi sono presa delle piccole rinuncite fino ad oggi, ecco, non ho mai mollato, credo nel fare, ecco, nel mai sempre prepararsi nel suo da fare, quindi mi ha... Ma è totalmente in me nella vita, ecco, e oggi è una giornata particolare perché è la prima volta che porto mia figlia con me in un evento, quindi ancora, insomma, molto 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 emozionante. Diciamo tutto che è diversa da un continente diverso, quanto pesava a quei tempi questa corona? No, pesava no, me l'hanno data la torre a mantenere, ma già che c'era. Sono altre cose che possono pesare, possono pesare le parole, possono pesare i pensieri, possono pesare le cose che vengono scritte. Però devo dire che la comunicazione per quello che riguarda questa tipologia di argomento, sia della donna, sia di quello che è stato il concorso di Miss Italia, che ha avuto sicuramente un cambio, un'azione anche, è in positivo. Posso dire che raccogliendo, diciamo, le mie esperienze lavorative sono molto, molto contenta, molto soddisfatta. Grazie a tutti.